Allora, cominciamo subito perché abbiamo un ritardo di metà ora, quindi è più importante di cercare di recuperare il tempo. Sommiglio prima la mia parola alla dottoressa Pacifici, che ci va bene all'osservatore di fumare con la droga e che presenta il rapporto nazionale sul fumo del 2012, la dottoressa Pacifici è ormai un'autorità nel campo perché attraverso l'osservatorio, attraverso la presentazione di queste relazioni fumare, ci sono i dati sui riflettori. Grazie, signor Garoppini, grazie tanto. Grazie. Va bene, questo era il video che celebravo questa giornata e quindi io do il buongiorno e il benvenuto a tutti, il quindicesimo appuntamento che abbiamo insieme per celebrare la giornata mondiale senza fumo e anche l'occasione per parlare del rapporto del fumo in Italia. e quest'anno mi sembra, diciamo, importante iniziare subito con il dato già commentato, conosciuto, comunque abbastanza clatante, della diminuzione della vendita di sigarette che ha registrato meno 8% nell'ottimo anno. Una diminuzione che, come potete vedere, è una conferma dell'andamento ormai consolidato, arriviamo a, diciamo, oltre il 15% di diminuzione negli ultimi 7 anni e, diciamo, in controtendenza si conferma invece il consumo degli altri prodotti del tabacco. In particolare, potete vedere i trinciati, trinciati che hanno avuto nell'ultimo anno un incremento superiore al 30%, ma oltre il 424% negli ultimi 7 anni. Negli ultimi, nei primissimi tre mesi del 2013 questo fenomeno si consolida e, come potete vedere, si conferma una diminuzione, primi tre mesi del 2013 rispetto ai primi tre mesi del 2012 dell'oltre il 14%, ci sembra anche essere una diminuzione anche se contenuta degli altri prodotti del tabacco. La, diciamo, diminuzione e flessione delle vendite di prodotti del tabacco non è un fenomeno solo italiano, è un fenomeno, diciamo, generale dei paesi europei e è anche europeo il fenomeno invece di controtendenza a consumo degli altri prodotti del tabacco ed è un fenomeno consolidato nei vari paesi anche l'amento della differenza di prezzi tra le sigarette e gli altri prodotti, in particolare dei prezzi. E, diciamo, come potete vedere, questa è un'indagine della Commissione Europea, ci indica che l'Italia, dopo l'Irlanda e prima della Grecia, è il paese che ha aumentato nell'ultimo anno maggiormente il consumo di prodotti, altri prodotti del tabacco oltre, diciamo, diversi dalle sigarette. Questo, diciamo, spiega anche la motivazione all'uso di questo prodotto e qui vediamo la differenza media di prezzo tra, nei vari paesi europei, tra 20 sigarette preparate da trinciato, quindi rollate a mano, rispetto a un pacchetto classico. In Italia la differenza è 2,81 euro. Bene, se parliamo di prezzo, voglio commentare con voi le politiche, diciamo, del prezzo nei vari paesi europei, che chiaramente, si vede, hanno un andamento, un gradiente che va da est verso ovest. Allora, fatto, diciamo, standard, il prezzo di un pacchetto di malvolo da 20, si vede evidente che i prezzi più bassi sono spostati verso oest. Sono, diciamo, medi quelli che si spostano verso il centro dell'Europa e ritroviamo i prezzi più alti a ovest e nord-ovest dell'Europa. Le politiche anche di incremento del prezzo sono molto diversificate e abbiamo aumenti oltre l'86% in Bielorussia, ma abbiamo anche lo standard, diciamo, il record italiano che nell'ultimo anno ha avuto un incremento solo del 2%. Bene, è evidente che politiche di prezzo in una, diciamo, Unione Europea così diverse non favoriscono la lotta al contrabbando e alle contraffazioni. E questo è un elemento, diciamo, di uno studio europeo che ci dice come sono in aumento il consumo di sigarette di contrabbando e contraffatto. E qui vediamo la stima del nostro paese dell'Italia che, diciamo, nell'ultimo anno è il terzo paese per incremento di sigarette di contrabbando e contraffatto. L'Italia è anche il terzo paese in Europa che nell'ultimo anno ha visto aumentato il consumo di sigarette di sigarette di marche non registrate. E questo dato è assolutamente in linea con quanto gentilmente ci viene fornito, i dati che ci vengono forniti dalla Guardia di Finanza, che danno indicazione che le aree di maggior provenienza sono proprio Cina, Europa dell'Est e qui elencate molte, non solo tutte, le marche non registrate che sono state sequestrate in Italia. questi dati reali dei sigarette esteri degli ultimi due anni della Guardia di Finanza dove vediamo un incremento, diciamo, dei lavorati esteri e una flessione dei contraffatti. Arriviamo adesso all'indagine DOXA che tutti gli anni noi presentiamo e che è effettuata in collaborazione con gli istituti di ricerche farmacologiche Mario Ligli. Bene, gli italiani del 2013, fotografati nei primi tre mesi del 2013, sono 10,6 milioni, rappresentano il 20,7% della popolazione di anni superiore ai 15 e sono il 25,9% uomini e il 15,8% sono donne. Rispetto al genere e alle fasce di età possiamo notare come la prevalenza maggiore di fumatori maschi la ritroviamo tra i 25 e i 44 anni, spera il 32%, mentre la prevalenza maggiore di fumatrici la ritroviamo nella fascia di età tra i 45 e i 68 anni. Oltre i 65 anni ritroviamo le prevalenze di fumatori di entrambi i sessi minori. Rispetto alle aree geografiche dove non si notano particolari differenze, mi prego a far notare come quest'anno la prevalenza di donne nell'area sud, isole, addirittura anche se di pochissimo supera le altre aree geografiche ma ci sorprende perché è la prima volta che troviamo una prevalenza così alta di donne in una zona dove storicamente la prevalenza di fumatrici è tra le più basse. Bene, se studiamo l'andamento della prevalenza negli anni non possiamo che riconfermare un discorso che facciamo tutti gli anni, una diminuzione lenta, lentissima della prevalenza di fumatori. Quest'anno è solo un 0,2% con una dicotomia prevalenza maschile e femminile che tende quest'anno ad ampliarsi. In diminuzione come potete vedere è anche lenta ma costante il numero medio di sigarette fumate al giorno e rispetto al numero di sigarette fumate al giorno ci sembra interessante studiare la diversa distribuzione per fasce di età e considerare che oltre i 25 anni la tipologia di consumo giornaliero è abbastanza simile, non ci sono più grandi differenze. Sostanzialmente oltre il 50% fuma meno di 15 sigarette al giorno, poi abbiamo attestato intorno al 30-35% tra i 15 e i 24, una piccola quota oltre i 25 sigarette al giorno. Il dato che sembra più significativo è che proprio nella fascia di età 15-24 anni abbiamo la maggiore prevalenza quasi 81% di ragazzi che fumano meno di 15 sigarette al giorno. È evidente che questa è la fascia di età in cui si inizia a fumare e si inizia verosimilmente a fumare un numero di sigarette non altissimo. L'età media a cui si inizia è 17,7 anni, un gap di un anno preciso tra maschi e femmine, comunque oltre il 70% inizia quindi tra i 15 e i 20 anni. Certamente è importante, da un punto di vista sanitario più che mai, quel 14% che ha iniziato a fumare prima dei 15 anni. Le motivazioni che spingono a iniziare a fumare rimangono costante e prevalentemente quelle dell'influenza dei pari tra nelle condizioni e nelle situazioni diciamo più ludiche e ricreazionali, tipiche. E particolarmente potete evidente questa motivazione nella fascia di età più giovanile. Bene, cosa e come si fuma? Andiamo a dettagliare la situazione e possiamo dire che quasi la totalità dei fumatori sono fumatori non occasionali, sono fumatori diciamo quotidiani e fumano quasi il 96% sigarette confezionate. Esiste però quasi un 10% di fumatori circa un milione di persone che utilizzano sigarette fatte a mano. E chi sono questi? Ma sono prevalentemente giovani, giovani, giovani che si ritrovano appunto nella fascia tra i 15 e i 24 anni. E le motivazioni le abbiamo per chiare. È un acquisto molto più economico, è un prodotto rollato a mano, fa moda e trend tra i giovani. Bene, vengono acquistate come consuetudine oltre quasi il 89% nei tabaccai, abbiamo quasi un 7% che acquista negli istitutori automatici, c'è una quota di acquisto negli altri canali che sono i duty free, internet e altre situazioni. Bene, adesso allora arriviamo al novità di quest'anno cercando di cogliere la fotografia che l'indagine ha fatto sul consumo della sigaretta elettronica ad oggi. Bene, voglio partire con questa annotazione, questa nota che una delle più grandi banche mondiali, la World Fargo, qualche tempo fa ha esplicitato questo pensiero, ritiene, stima che in 10 anni il consumo di sigarette elettronica supererà quella delle sigarette tradizionali. Anzi, ritiene questo un fenomeno che può essere assimilabile a quello delle Apple e che la sigaretta elettronica è un po' la versione One dell'iPhone. A risposta di questa stima, le più grandi multinazionali del tabacco, le big del tabacco, hanno acquistato le più grandi case produttrici di sigarette elettroniche. Allora, i dati che ci ha fornito l'associazione dei rivenditori e dei produttori, come vi anticipava il professor Galaci, è una stima, dicono loro, per difetto di un milione, un fatturato che è stato di oltre 250 milioni nel 2012, prezzo, abbiamo detto, di un euro al giorno, punti vendita ad dicembre 2013, 2005, stimati alla fine dell'anno 4.000, un personale con voto escluso l'indotto di 4.000 persone. Cosa dice la nostra indagine? Bene, intanto la notorietà di questo prodotto, che ormai ha conoscenza di quasi della totalità degli italiani, anche se solo il 10% dichiara di volerla da provare. Ma possiamo vedere come l'uso occasionale della sigaretta elettronica viene dichiarata dal 3,2% degli italiani, quindi 1,6 milioni di persone dichiarano di consumare occasionalmente la sigaretta elettronica e nel 69% dei casi con ricariche che contengono nicotina. Diverso il discorso sui user abituali di sigaretta elettronica, cioè che la usano tutti i giorni, la usano mediamente 9 volte al giorno, sono circa 510 mila persone e nel oltre 93% dei casi la usano con ricariche contenenti nicotina. Bene, se vogliamo fare un profilo di questo consumatore di sigaretta elettronica, possiamo dire che come vedete dal punto di vista di genere non si differenzia assolutamente dal consumatore di prodotti del tabacco, ma si differenzia l'età dei consumatori. L'età media del consumatore di sigaretta elettronica è più giovane, a 39 anni rispetto ai 45 del fumatore e come potete vedere nella fascia di età più giovane tra i 15 e i 24 anni è più che doppia la prevalenza di chi usa la sigaretta elettronica. Questa di indicare che la fascia di età dei giovani è la fascia in cui il mercato si rivolge in maniera più significativa e che qui abbiamo una fascia di giovani che la sta utilizzando senza aver mai prima utilizzato la sigaretta classica. Bene, quali conseguenze dell'uso della sigaretta elettronica potrà avuto diciamo su queste persone che l'hanno utilizzata abitualmente? Come potete vedere quasi l'11% dichiara di aver smesso di non utilizzare più sigarette classiche. Questo significa che però abbiamo quasi un 90%, un 89% di persone che utilizzano entrambi i prodotti e ne abbiamo un 22% che non avendo modificato le sue abitudini ha aggiunto l'uso della sigaretta elettronica al consumo della sigaretta classica. Abbiamo però un 65% più o meno di persone che utilizzandola dichiarano di consumare meno sigarette classiche e diciamo un 23% dichiara di aver diminuito in maniera anche drastica questo numero. L'uso della sigaretta elettronica diciamo nel 22% dei casi è consolidato già da diversi mesi, 4-6 mesi, ne abbiamo poi un 43% che la sta utilizzando da 2-3 mesi e un 34-5% che la usa da meno di un mese. Dove l'acquistano? Bene, il 78% acquista di venditori specializzati. Però abbiamo una piccola quota che le acquista in farmacia, una quota non insignificante che è il 13% circa che la acquista da età bancai e poi abbiamo un 5-5% che sono altri canali di acquisto, verosimilmente canali illegali. Bene, qui abbiamo anche a confronto la credenza diciamo sulla sigaretta elettronica che potete vedere tendenzialmente nel fumatore è più propensa a essere ottimistica e quindi a ritenere che permette di fumare anche dove non è consentito, che fa meno male perché non vi è la combustione del tabacco o perché contiene solo nicotina. Bene, l'acquisto via internet delle ricariche è un fenomeno abbastanza accettato e quindi noi possiamo ricordare dei casi di un trascinamento verso consumi che non sono legali come per esempio quello della cannabis che si trovano oggi o di anonestizzanti a base diciamo affetaminiche che si ritrovano diciamo acquistabili via internet con le ricariche. Che è un fenomeno importante dal punto di vista diciamo dell'entità, ce lo danno anche indicazione diretta vogliamo dire dei sequestri, delle operazioni dati fondamentalmente forniti dai NAS. Se pensiamo che semplicemente i sequestri, diciamo le azioni, le violazioni riscontrate alla normativa nel solo primo trimestre del 2013 sono state 676 mila di numerosità e potete vedere che tra le primi abbiamo sicurezza e tossicità, ci chiedono è sicura, esiste una marca che è più sicura che un'altra e poi ci chiedono è vero che aiuta a smettere di fumare? Sono un fumatore, ho smesso già da sei mesi ma se io adesso utilizzo questo prodotto ho qualche rischio di ricaduta, lo posso fare, se no mi danno problemi e poi sulla normativa sia del consumatore sia dei gestori, devo vietare, posso fumare in un ristorante, un bar, un cinema e la situazione come vi ha già accennato il professor Galaci non è certo chiara in Europa, molto frastagliata le deposizioni, qui vediamo i paesi in azzurro che stanno operando verso una normativa che tende a considerare almeno quelle che contengono nicotina, prodotti medicinali, mentre abbiamo altri paesi che ancora non si sono normati. Bene, rispetto adesso alla crisi economica volevo ricordarvi come l'anno scorso avevamo già testato questo dato che sostanzialmente 8 fumatori su 10 non sembrano cambiare le loro abitudini, quindi non risentire la crisi economica rispetto all'attitudine età magica, però notiamo che invece è più che raddoppiata la percentuale di chi fuma di più dichiara di fumare di più e rispetto a questo abbinamento fumo e gioco d'azzardo abbiamo di nuovo quest'anno registrato come sia maggiore la percentuale di persone che fumando sono anche più propensi a giocare o viceversa. Bene, smettere di fumare. Smettere di fumare nel 2013 ha portato a una percentuale di persone che hanno tentato maggiore e anche vedrei con ottimismo il numero diminuito, minore di quelli che lo hanno fatto senza nessun risultato. La motivazione che si vuole smettere di fumare, si tenta di smettere di fumare rimane comunque le principali che sono sempre la maggior consapevolezza dei danni provocati e qui ci vogliamo prendere un po' tutti il merito di questo ma anche per motivi di salute. Rimane però come vedete diciamo abbastanza curioso il fatto che nonostante si sappia che il fumo fa molto male, l'autovalutazione sullo stato di salute del fumatore è uguale a quello del non fumatore. Ecco, noi ci dispiace dover insistere sul fatto che non è assolutamente così. Vogliamo ricordare anzi che in aggiunta a questo qualche anno fa mettendo in evidenza in questa ricerca come nelle marche di sigarette più famose registrano in uno studio condotto con il dottor Zagat la presenza di Polonio 210 e che ora ho molto piacere solo di accennare i risultati che il dottor Zagat illustrerà più tardi su questo studio multicentrico nel quale dal litro siamo passati al vivo, cioè analizzando i lavaggi di blocco polmonari dei fumatori. Ma di questo vi parlerà il dottor Zagat. Bene, tentativi di smettere senza successo, ecco potete vedere che in questo caso il 92% sono persone che hanno tentato di smettere ma senza nessun tipo di supporto e non ci stupisce perché come vedete ogni anno riproponiamo che solo una piccolissima percentuale di persone ha chiesto aiuto al proprio medico di famiglia ma d'altra parte è piccolissima la trazione di persone che hanno ricevuto dal proprio medico di famiglia un consiglio spontaneo per smettere di fumare. Ma allora non ci sorprende questa diciamo recente indagine che è stata condotta proprio dai medici di medicina generale che mette in evidenza intanto che il 20% dei medici sono fumatori e che in quel caso quando sono fumatori c'è una percentuale più alta che non ritiene utile diciamo dare indicazioni o parlare del problema del tabaggismo con i loro pazienti e tantomeno diciamo dare invito a rivolgersi ai centri antifumo o prescrivere dei farmaci che li possono aiutare. Questo diciamo altro studio non ci tranquillizza visto che i nuovi medici che arriveranno e metteremo presto sul mercato non sono assolutamente formati su questo argomento. Solo il 10% degli studenti riferisce di aver ricevuto in qualche modo un training su questo importante intervento sanitario e poi purtroppo un futuro medico su 5 seguita a essere un fumatore. D'altra parte potete vedere come solo il fatto del 2% dei fumatori gli è capitato che il suo medico gli parlasse dei centri antifumo, in diminuzione ancora la percentuale di chi conosce i centri antifumo che ricordiamo invece sono un'importantissima stampella del servizio sanitario nazionale e che il nostro censimento ormai attiene dal 2000 sono in continuamento, quindi sono diventati 372, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale anche se con una maggiore densità nel nord d'Italia. In 11 anni però potete vedere sono più che raddoppiati in tutte le aree geografiche. Il punto debole dei centri antifumo qui è ben esplicitato, è la carenza del numero di utenti che arrivano al centro antifumo, potete vedere una media di 88 utenti all'anno rispetto alle potenzialità che in questi centri antifumo è veramente grave. Ecco, la nostra indagine ha già anche indicato che coerentemente con la deontologia che vuole seguire le filidenze della medicina prima di fare degli interventi, il 91,2% dei personali sanitari dei centri antifumo non sta adottando la sigaretta elettronica come strumento per aiutare i fumatori a smettere di fumare. Ecco, cosa ci dicono i centri antifumori in queste nostre indagini che abbiamo condotto con loro? Ma cosa per aumentare l'afflusso e quindi diciamo incidere sul numero di fumatori e inserire le prestazioni antifapagiche nelle aree rimane veramente il primo punto da risolvere e rendere rimborsabili i farmaci, certamente sensibilizzare i medici di famiglia ma anche di divulgare le informazioni attraverso i mass media. Ecco, noi pensiamo di avere un minimo contribuito con questa iniziativa di cui vi ha accennato l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato con Sfeccia contro il Fumo e questa iniziativa che abbiamo realizzato per divulgare le informazioni. In alcuni treni su tutta l'Italia per questi ultimi quattro giorni sono stati distribuiti, è stata distribuita l'autoguida di autovalutazione per smettere di fumare e in alcuni di questi treni era presente in una saletta riservata del personale dei centri antifumo che ha operato la sua attività fuori dai centri sui treni, vicino ai viaggiatori, vicino ai passeggeri, vicino agli italiani che vogliono smettere di fumare. Queste tutte le persone che in maniera assolutamente gratuita e volontaria hanno partecipato, non li posso nominare tutti, li ringrazio però veramente a nome dell'istituto e a nome mio personale perché sono stati veramente importantissimi il loro lavoro. Rispetto agli invieti di cui vi aveva accennato il professor Berattini voglio concludere questo rapporto di quest'anno dicendo che sì, i tempi sono maturi per aumentare e allargare i luoghi dove il fumo è vietato. Vediamo certo una dicotomia di atteggiamento favorevole rispetto all'aumento dei divieti tra la popolazione generale e i fumatori che certo sono più restivi ma sostanzialmente vediamo un favore ad aumentare il divieto nei parchi e nei jardini pubblici, agli stati, nei cortili delle scuole dove sale molto ovviamente il gradimento anche da parte dei fumatori, nelle aree aperte degli ospedali ma anche negli autobus, alle stazioni dei treni, mentre voglio chiudere con i divieti di usare la sigaretta elettronica che come vedete proprio penso giustificati da una ancora non chiara posizione sulla sicurezza o tossicità, pericolosità o diciamo utilità della sigaretta elettronica, vede gli italiani divisi tra chi favorevole e il contrario a vietarli sia nei luoghi pubblici chiusi come i bar, i ristoranti o come diciamo a bordo dei treni. Io ho ancora qui, vi illustro le possibilità di arrivare ai materiali che produciamo tutti gli anni, compresa la guida ai servizi aggiornata e cezzita ancora quest'anno e ringrazio tutti i miei collaboratori perché il loro lavoro ci consente e mi consente ogni anno di portarvi questi dati. Grazie.